Ho fatto soldi e sono diventato ricco! Porco cane sono uno shake! Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati in un nuovissimissimo video di fortnite! Oggi proveremo a cercare la nuovissimissima arma lancia razzi in cudine ovviamente stiamo andando in un posto dove ci siamo andati migliori di volte! Esatto, sono tre giorni che cerchiamo! E nello stesso posto perché se una volta c'è, non vuol dire che c'è sempre! Questo bisogna imparare la memoria! Ecco adesso mi fa fuori? No è un NPC! Lo è il bosso che sta trattando! E' il bosso! E' il bosso di ciò che sta trattando! Ho scoperto il bosso! Mamma mia! Uccidilo! E' il bosso di ciò? E' il bosso di ciò! D'ammarare! 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 Oggi succedono! Ma che cosa fai è tutto? E' l'ammarare! quello che sto cercando oddio è un po' esagerato hai visto che rogo? hai detto scappa hai tre fucili dello stesso ho capito avevo paura di non guarda magari un medikit questo non si ferma più un medikit oh l'abbiamo cercato l'abbiamo trovato allora ragazzi abbiamo trovato un nuovissimo lanciarazzi in cudine che vedete è bellissimo proprio in pratica consumeremo una cosa adesso c'è un baule lì vai a prendere il medikit la fontanella l'ho vista eccola ok vediamo come si usa beh è facile basta che c'è un veicolo queste sono per i veicoli lo miri lui fa un agganciamento e ogni volta che voi se lo sparate ovunque va il veicolo questo missile lo inseguirà poi te la reale mi siamo un po' no te la reale non abbiamo mai chiesto una cosa del genere no noi siamo sempre cercando armato lì rovinato eccolo bravo guardate oh mio dio vai vai lascia perdere quello dove è? non lo so te lo provo lì faccio un action si eh si vi chiedete aspetta ma non hai detto che era solo per no raga funziona anche per i cosi se volete è lì è lì nel palazzo lì dici sì eccola ma lo manco ci passa troppo tempo lui perché non è un veicolo questo questo l'avrebbe se era un veicolo l'avrebbe seguito del bug città di spudermano spider pork stai lì e cerchiamo una macchina la città di spider pork ma che spider pork cosa stai dicendo spider pork spider pork ok di che fosse meglio andare vabbè dai vai via cerca una macchina così proviamo questo affare qua e c'è una ma ah quella proviamo una macchina per favore che c'è il car armato dove lì perché lì ci sono sempre delle guardie che le fai incacchiare in un certo senso vediamo se ci sono sei troppo lontano sei troppo vicino magari se ci salti anche tu è troppo vicino ma cos'è questo rumore allora aspetta ce ne ha un altro fai vedere come è fatto vediamolo come fa no non quello non mangiamento come è fatto il peso stai fermo in teoria come vedete tipo un lanciarazzi con cui il missile esatto è la stessa cosa è un lanciarazzi sono un po' più potenziato stai fermo stai fermo così non ti vede ma che vivi da lì perché vediamo dove è portato più di tre non può evitivi di giù no come mai non è più nessuna allora vai a farlo fuori poi a farlo fuori così magari ha più munizioni troveremo munizioni bravo vuole delle granate signore? è lì bravo ho fatto solito sono diventato ricco porcocane sono uno shake si però adesso è blu non è più quello che avevi tu eh lo so perchè ha più munizioni di questo ma non è la stessa? ah va bene dai vabbè proprio la finizione ho fatto solito sono diventato ricco poi andiamo via da qualche parte che è quella? troviamo un bersaglio che cazzo che cazzo oddio che cosa parla dopo di che cazzo ah il fucile ha dei colpi ho fatto questo obo e lì è lì non è vero chi è? no un polame ma non ti posso credere siamo stati attaccati da un polo ma pensate ho perso il colpo è lì e io l'ho perso non c'è un esaurito? come esaurito? ne ho sei? provo un attimo di nuovo a sparare vedete come mai ah ok ma l'ho fatto fatto che è un riniti che mi dice danger? lì è che c'è qualcuno no ah strano per un attimo ho preso un colpo mi sono venuto dietro ho detto no è la gallina guarda 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 dove vuole andare eh l'ho visto l'ho visto l'ho viste qua giù qua giù l'ho visto è lì perché non spari con un erogio? eh perché no perché si muove poi vediamo quale problema hai capito? eh beh è troppo lontano ah ha un cecchino infatti mi sta ramirando vabbè c'è una visione notturna c'è vede solo i veicoli eh no scusate dove? allora uff sono un 6 eh non hai un medikit è peccato lascia perdere i medikit si ma se ti spara un uomo se abbiamo armi utili c'è un camion eccolo è i believe addios amico zoom vediamo oh beh ma l'avrà fatto fuori? no 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 oh gli ho fatto sparare agricolo non è vero ti odio è ucciso non tu un altro lo so ho detto là ucciso scusami no 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 c'è il vampa fucile aspetta dove? lo vedi? no non lo vedo scappa da qualche parte poi vediamo è lì ma si stasse ok quando si sente un po' un po' uno dei due morirà però ci sono ancora 5 eh può essere anche di 10 infatti da dove? da dove? eh non lo so hai da aspettare ah eccolo ma che cavolo almeno questi alberi vai con un po' un razzo il se ne spenda no 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 santa chi se ne spenda ah mamma mia va a compà ok niente così si spaventa un po' è lì sotto uno si spara da sotto o magari una distrazione ma no che caspita eh adesso non hai niente ma quanto vuole farà? ma quanto vuole farà? va via c'è no non la li faccio va bene al boss ciao va bene ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto noi vi vedremo in una prossima puntata ciao ragazzi